La premessa che dico oramai sulla TAV è che mi sono profondamente stancato di parlarne, perché qua poco più di due anni fa c'è stato un morto e io do molta più importanza alla famiglia che da allora sta soffrendo per questa persona che non c'è più, che a fare questo buco nella montagna che impegna la maggior parte delle risorse dei cittadini italiani. Voglio impegnare le risorse del TAV per fare molto meglio di una galleria che sarà pronta tra 15 anni e che se darà benefici li darà dopo il 2070. Una cosa vi dico però, io vi dico che della galleria di base l'Italia paga del TAV il 60%, sapete perché? Perché la tratta esterna francese era molto più ampia in termini di chilometraggio di quella italiana. Sapete che la tratta esterna francese non è finanziata fino al 2038, quindi noi stiamo pagando per la Francia una galleria di 57 km, di cui 45 in territorio francese e di proprietà francese e 12 italiani. La stiamo pagando quasi tutta noi perché loro dovevano fare un investimento enorme fuori, non lo stanno facendo. Io penso che i politici che ci hanno preceduto e che mi hanno preceduto si dovrebbero vergognare di impegnare soldi che magari potevano essere messi per questo ponte per manutenerlo che non crollava in testa una persona. Quindi lei ribadisce il no alla TAV? Come Movimento 5 Stelle ribadisco profondamente il no alla TAV senza alcun pregiudizio. Non ho alcun pregiudizio al TAV, non mi importa, il TAV può anche servire, sono felice se dopo il 2070 serve. Ma io sono Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, lei si rende conto che se domani muore una famiglia perché crolla un altro ponte io mi sento responsabile, anche se evidentemente giuridicamente non lo sono, perché avrei potuto impegnare le risorse del TAV per manutenere quella infrastruttura e sinceramente io non voglio che questo governo si senta responsabile.